Acceduto una parte del muro, situata a pochi metri dai bagni comunali della discesa in Pedocle, grossi massi e pietrisco si sono staccati sbriciolandosi all'interno dell'area di verde sottostante vicino ad un parcheggio privato. A causa dell'infiltrazione dell'acqua piovana e delle radici degli alberi, la parte alta del muraglione è a rischio crollo. In alcuni tratti delle mura sono evidenti le lesioni e le fessure apparsi in questi ultimi mesi, uno stato di pericolo recentemente segnalato anche dagli agenti della Polizia Municipale. Il crollo parziale della scorsa notte fortunatamente non ha coinvolto persone in quanto a quell'ora la strada era deserta. Già stamattina i responsabili dell'ufficio tecnico comunale hanno effettuato un sopralluogo nella zona. Ora si aspetta di conoscere quali saranno le soluzioni immediate e gli interventi per mettere in sicurezza l'area interessata. Cresce la paura per la grave situazione in cui versano alcuni muri cittadini. La mente riporta al marzo di anno fa quanto un movimento franoso causò il crollo della strada della via Giovanni XXIII. Senza interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento alcune mure della città come nel caso della via delle torri e poi ancora delle vie Petronenne ed Empedocle cresce il rischio di cedimenti.